Ciao, in questo video vi faccio vedere bene la filosofia di funzionamento del mio alforitmo FusionSort. Da questo video si può capire bene come funziona l'algoritmo. Praticamente l'algoritmo mette in ordine due gruppi sempre più grandi fino al completo riordino degli elementi. All'inizio ogni uno dei due gruppi sarà composto da un unico elemento. Negli algoritmi di ordinamento esponenziali, il tempo impiegato è uguale al numero di elementi al quadrato moltiplicato per un coefficiente specifico per ogni algoritmo dipendente dall'efficienza del codice generato e dalle caratteristiche della macchina su cui viene eseguito. In FusionSort il tempo impiegato è funzione del numero di iterazioni dell'array moltiplicato per l'esponente della potenza di 2 che lo contiene. In questo esempio gli elementi messi in ordine sono 32 quindi il tempo impiegato sarà pari a, tempo singola iterazione array per 5. Perché la potenza di 2 che contiene il numero 32 è 5, cioè, 2 alla quinta è uguale a 32. Quindi in sole 30 iterazioni FusionSort mette in ordine più di un miliardo di elementi. A risentirci nel prossimo video. Ciao!